Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate a Stop Whining, Start Reading. Torniamo con i libri. Il libro della settimana è questo, Confessioni di un corridore in tutta la notte, quindi di un corridore notturno ultra marathon man. Questo libro esiste anche in italiano, è secondo l'Economist il settimo bestseller mondiale nel mondo dello sport. Non so se poi questi dati siano stati aggiornati o meno. Questo libro che mi ha consigliato qualcuno di voi, e io ti ringrazio, è un libro che parla della storia di Dean, perché di fatto Dean si pronuncerebbe, ma essendo greco lo chiamiamo Dean. Carnazes, che è un corridore, appunto un'ultra maratoneta americano tra i più conosciuti, anche se adesso probabilmente va già per un'età in cui magari correrà un pochino di meno, mettiamola così. Perché un libro su un'ultra maratoneta? Perché ancora un libro sulla corsa? Perché questo è un libro fenomenale. È un libro che parla di come lui aveva smesso di correre nella vita quando era adolescente, anzi, guardate, trovo anche la sua foto, e poi ha ripreso a correre da grande, addirittura arrivando a correre 200 miglia di fila, sono più di 260 chilometri. Due giorni. Il libro è fantastico perché parla di un concetto di che cos'è il dolore, di cos'è la fatica, che io credo sia molto utile nelle vite di tutti noi quando qualcosa ci pesa tremendamente farlo, quando siamo stanchi, siamo stufi, quando c'è qualcosa che non ci torna e c'è quel, come dire, non mi viene in italiano la parola, scusate, quando solletico, quel solletico da gestire e a cui rispondere. Questo libro parla di questo, parla di come per lui il solletico fosse quello di muoversi, e come muoversi ci si muove inizialmente con le gambe, poi con la testa e poi con il cuore. È un libro che parla di come il movimento è l'unica vera costante della vita ed è un libro che io ritengo essere una bellissima lettura, anche perché non fa filosofie di sorta, racconta semplicemente da dove si origina la sua passione e tre importanti sfide. La Western State Endurance, 100 miglia per le montagne della California, la Bedwater, che è dentro il punto più caldo della Terra, insomma, che è una depressione di oltre 200 metri, è il punto più caldo della Death Valley e della Terra tutta, e di questa corsa da 200 miglia che è il The Relay, cioè una corsa che andrebbe fatta con diversi corridori, quindi con gruppi di corridori che si scambiano un testimone, invece lui ha fatto da solo. Io non vi voglio spoilerare altro, è un libro veramente fenomenale, vi prometto che per almeno due o tre libri non torneremo a parlare di corsa. Me lo sono gustata, ci ho messo circa una settimana, ma solo perché ho letto anche altre cose nel mezzo, se vi impegnate in un fine settimana l'avete finito. È un libro che vi consiglio moltissimo da portarvi sotto l'ombrellone, veramente fantastico e giusto per farvi iniziare ispirati l'anno, perché l'anno comincia veramente a settembre. Stop whining!